Sono iniziati i lavori per la creazione del bacino di laminazione che salverà il quartiere Brusegana dagli allagamenti che spesso si verificano in occasione di forti piogge e acquazzoni. Un'opera necessaria per la sicurezza idrogeologica del quadrante ovest della città di Padova che ad oggi è uno dei più fragili e spesso soggetto ad allagamenti. Il bacino di laminazione quindi serve a contenere le acque che piovono per poi farle fluire lentamente in momenti di pace dal punto di vista delle acque nel sistema di canali qui intorno. Il bacino di laminazione è un bacino che conterrà circa 18.000 metri cubi d'acqua, l'investimento è un investimento di 680.000 euro ed è un'opera importante per mettere in sicurezza il nostro territorio. Il cantiere della vasca di laminazione realizzato in prossimità dell'intersezione della rete di tangenziali in zona Corso Australia è stato finanziato con i fondi del PNRR, un'opera che i residenti del quartiere Brusegana attendevano da tempo.